Palazzo dei Congressi, sono alla sfilata Nicole, collezione 2020 e io mi trovo con lei. Nicole, la figlia di Alessandra Renaudo e Carlo Cavallo, lei dà il nome anche a questa grande azienda. Nicole, buonasera. Buonasera. Complimenti intanto perché dire che sei bellissima è assolutamente riduttivo. E tu sei troppo generosa, sei troppo generosa. È la verità ed è visibile a tutti. Allora, vedremo un passerella comunque anche della storia di una grande azienda, di una grande Maison, della quale porti il nome e quindi anche un'immensa responsabilità immagino per una ragazza così giovane come te. Quale ruolo ti sei ritagliata all'interno della Maison? Allora, all'interno della Maison io sicuramente posso definirmi come un ambassador, no? Quindi faccio il ruolo di testimoniare e di incarnare i valori del brand a livello mediatico e sicuramente con tutte le ragazze giovani come me poter trasmettere quello che è anche la realtà e il futuro della nostra azienda. Beh, un ruolo idoneo sicuramente al tuo aspetto e anche alla tua intelligenza, insomma, perché ti ho seguito, ho avuto modo di vedere e vedo che sei una ragazza molto sveglia, per così dire sbarte. A proposito di ragazze sveglie, chiaramente sei ambassador anche di una generazione, quindi è una generazione che per la comunicazione è molto attenta ai social. Sì, assolutamente. Qual è il tuo approccio con i social? Allora, il mio approccio con il social è un approccio molto empatico con tutte le ragazze perché secondo me è giusto poter capire che cosa vogliono, interpretarlo al meglio. Infatti in questa sfilata vedrete sfilare 12 capi della collezione Nicole per Nicole che è una collezione dedicata alle spose millennial, cioè alle spose che hanno la mia età e di cui ho cercato di interpretarne i gusti e le esigenze. Allora, per le spose giovanissime io sono con Nicole, Palazzo dei Congressi, collezione 2020, vi aspettiamo!